Ci sono cosce e cosce, questa sera la coscia più bella della Roma giallorossa è quella di Dzeko che al minuto 93 riesce a regalare una vittoria ormai insperata. Ve lo devo dire sinceramente, mi ero portato tre o quattro minuti prima del fischio finale, già per guadagnare tempo e darvi in maniera immediata il risultato e un commento a questa partita mi ero spostato. Mi ero spostato dalla tv e avevo parlato ovviamente di passo falso della Roma, un 2 a 2 che vedeva la Roma allontanarsi dal Milan e dall'Inter nella lotta per arrivare almeno terzo o quarto. Poi ritorno rapidamente per controllare il risultato e vedo la grande sorpresa, la Roma c'è riuscita, la Roma al minuto 93 è riuscita a realizzare il gol della vittoria. Un gol della vittoria proprio di Dzeko che devia il cross di El Sharavi dopo l'azione nata da De Rossi, riesce a deviare il pallone alle spalle con il corpo, con la coscia praticamente alle spalle di Sportiello. Una partita dominata da un altro non giocatore, Eolo, il re dei venti, partita disturbatissima dal vento, un vento fastidioso che ha condizionato il match. Un altro episodio, prima ancora di parlare della partita, è l'episodio che vede Manolas uscire dopo uno scontro con un giocatore in un tentativo di fermare il pallone, esce in barella con le mani sul volto. È un incidente che potrebbe, io non ero là, potrebbe essere serio e visto che Manolas è uno dei pilastri nello scacchiere di Di Francesco, indipendentemente dalla soddisfazione di aver portato a casa un risultato insperato per la buona prestazione del Frosinone, questo è un altro elemento da tenere in grande considerazione nel giudizio globale della partita. Partita che ha visto subito la Roma andare sotto per una bel gol di Ciano, la formazione giallorossa però era al quinto minuto, reagiva e nel giro di due minuti il solito Dzeko pareggiava e subito Lorenzo Pellegrini si portava alla Roma sul 2-1. Roma che controllava fin troppo, Di Francesco si agitava, voleva chiudere la partita. Soprattutto nel secondo tempo con l'ingresso di Pinamonti e l'uscita di Manolas per infortunio, la Roma ha avuto un attimo di sbandamento lasciando la squadra molto lunga. Pinamonti aveva subito una grande occasione ma non riusciva nonostante la torsione scopadea che ricorda proprio lo scultore del V secolo amanti Cristo greco che amava queste sculture di massima torsione non riusciva appunto in torsione a mettere a segno il gol. Ma mancavano pochi, ma dopo pochi minuti all'ottantesimo ancora Pinamonti. Grazie all'azione ancora del protagonista del gol iniziale del Frosinone, Ciano, che superava due avversari, appoggiava Pinamonti, ex giocatore nerazzurro dell'Inter che voleva fortemente regalare un gol al suo Frosinone ma anche alla sua ex Inter, era freddo come il sangue di un crotalo e batteva il portiere Olsen da distanza ravvicinata dopo aver controllato il pallone. Allora lì la partita sembrava finita, io mi sono staccato gli ultimi due o tre minuti ma poi ho rivisto l'azione inregistrata e ripeto è stato Dzeko proprio veramente dato che siamo a Roma, ricordiamo le commedie di Plauto in latino, il deus ex machina lui è proprio arrivato non dal cielo, non un deus ma dalla Bosnia per segnare questo gol importante che rimette le cose come la Roma avrebbe voluto e quindi prima del match fra Fiorentina e Inter oggi la classifica dice Inter 46, Milan 45, Roma 44. La lotta è sempre più furibonda. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.